Sarà giudicato davanti alla Corte d'Assise Anderson Vasquez di Pre, il 34enne accusato di aver ucciso Ezechiele Mendoza alle 8 del mattino del 1 gennaio di quest'anno, dopo la festa di Capodanno a Laghetto Alcione di Udine. L'ha deciso il giudice per l'udienza preliminare Giulia Pussini, fissando al 16 gennaio la prima udienza. Dal mio punto di vista scontato il mio giudizio davanti alla Corte d'Assise, il processo comincia il 16 gennaio e chiaramente lì, poi si approfondiranno le questioni di merito relative all'aggravanti, alla gravità del fatto, alle modalità del fatto. Il gruppo ha respinto l'eccezione presentata dalla difesa che puntava ad escludere una ricostruzione del delitto effettuata da Eris di Parma senza la presenza di un consulente della difesa, oltre che a far passare la tesi dell'omicidio preterintenzionale. Di Pre dovrà rispondere invece di omicidio volontario con l'aggravante dei futi di motivi. Questa circostanza ha impedito all'imputato di chiedere il ricorso al rito abbreviato, non previsto per reati punibili con la pena dell'ergastolo. Il fatto in quanto tale non è contestato, non abbiamo mai contestato che Anderson Di Pre e Vasquez abbia colpito, noi abbiamo sempre contestato e continueremo a farlo perché ne siamo convinti che quel colpo non sia un colpo volontario per uccidere qualcuno. Si è girato di scatto avendo un bicchiere in mano. Questa è la realtà delle cose ed è quello che andremo poi a portare avanti con coscienza e in serenità anche davanti alla corte d'assise dove poi verranno fatti tutti gli approfondimenti necessari come normale in una situazione come questa in cui appunto vi è stato poi comunque c'è una persona che non c'è più. Grazie a tutti.